ciao ragazzi buonasera a tutti allora come avete visto dal titolo c'è un camper in vendita di un mio carissimo amico ovviamente se ci metto la faccia è perché sapete che comunque io mi metto in mezzo e mi impiccio di cose quando sono assolutamente certo della qualità del prodotto o di qualsiasi altra cosa si tratti ma che comunque sia vera quindi vi garantisco che è un camper assolutissimamente perfetto non ha infiltrazioni è tenuto in questo stato tenuto in questo periodo in modo maniacale è ancora in garanzia ripeto perché lui l'ho acquistato da un concessionario quindi lo scorso anno ed è ancora in garanzia nel tempo in questi mesi che lui l'ho avuto purtroppo sono cambiate le esigenze familiari quindi necessita di un mezzo diverso non è per una rottura per difetti che viene venduto il mezzo quindi vi posso garantire che un mezzo veramente perfetto dovete solo mettere gasolio mettere in moto e partire non dovete fare altro a meno che in base alle dotazioni che ha non volete altro e volete aggiungere ma se vi vanno bene quelle dotazioni dovete solo mettere in moto partire e godervi il camper la vacanza il weekend e qualsiasi cosa vogliate fare e per qualsiasi informazione ulteriore a quelle che adesso vi metterò dopo questo video vi metterò un piccolo video dell'interno qualche foto con tutto tutte le informazioni del mezzo ricordo che lui ce l'ha in vendita credo 43 45 44 mila non mi ricordo quant'è però mi ha detto che se qualcuno qualche amico del canale del mio canale che gli interessa 41 5 42 io lo lascia volentieri ma per fare una cortesia a me quindi se siete interessati al mezzo contattatemi mandatemi una mail che vi lascio sempre nei commenti chi ha il mio numero di telefono mi può mandare whatsapp un messaggio che io vi metto in contatto direttamente con il proprietario quindi bando alle ciance ovviamente ragazzi come avete capito non è un camper per tutti comunque ha un costo notevole però vi garantisco che li vale tutti io ci sono stato anche dentro perché spesso capita è capitato che siamo usciti insieme anche se non lo avete visto nei video insomma pochissime volte lo avete visto nei video però ci sono stato dentro l'abbiamo provato è comodissimo è bellissimo veramente perfetto in ogni sua parte bando alle ciance come dicevo vi faccio vedere di che cosa si tratta ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Peccato che per le mie esigenze non mi è comodo Se no un pensierino ce l'avrei fatto Vi lascio come vi ho detto in descrizione e nei commenti la mia mail Anche se è pubblica sul canale ma ve la scrivo Se volete vi metto in contatto con il proprietario Fate uno sapere o per mail o sotto il commento Ovviamente lasciatemi una vostra mail o un recapito o qualcosa insomma Perché se no non saprei come contattarvi Invece per chi ha il mio numero mi può mandare un whatsapp E vi metto direttamente in contatto con Rocco Si chiama Rocco Quindi così vi mettete d'accordo per vederlo Quando incontrarvi Poi parlate di tutto quello che volete parlare Oppure gli potete fare domande Che magari nel video O nella descrizione Magari non vi ha soddisfatto Volete sapere qualcosa in più Contattatelo Che sarà disponibile a darvi Tutte le risposte che volete Vi ringrazio A presto ragazzi Ciao